Vito, Vacerci, l'accelerazione, le finte, la palla sul sinistro, Jovetic, prova ad andare dentro, Jovetic! Conclusione, ancora Gasparetto, sono tre che ne salva, sempre lui. Allunga la gamba e mette in calcio da angolo, salva ancora Kordaz. Tre clamorose occasioni, guardate la disperazione di Jovetic, la rabbia, si strappa la maglia. Ne serve un'altra, perché... Vorrebbe tanto questo gol al suo rientro in una gara ufficiale dopo 462 giorni. Ed è tanta la rabbia che è fallita questa occasione, guardate, Eric Valsecchi ce lo ripropone, strappa la maglia. Però ci sono tanti applausi per lui dal pubblico di Firenze.